Come si approva un regolamento comunale? Qui a sinistra vi ho messo l'esempio di una disciplina di uno statuto e qui una esemplificazione delle fasi per l'approvazione di un regolamento che sono le fasi classiche del procedimento amministrativo. Quindi qualcuno deve presentare la proposta di regolamento, normalmente sono i singoli consiglieri o la giunta. A questo punto si fa un istruttore. Il regolamento per essere approvato, come tutti gli atti deliberativi, deve avere un parere di rigolarità tecnica e un parere di rigolarità contabile. Pareri obbligatori, il contabile è eventuale, ma non vincolanti. Il regolamento quindi accede all'assemblea che lo vota. Se si raggiunge la maggioranza necessaria, maggioranza semplice come regola, maggioranza qualificata per alcuni regolamenti, si ha la sua approvazione e quindi la pubblicazione all'albopretorio. E qui trovate descritto quello che è l'iter dal punto di vista amministrativo. Quindi un classico iter di approvazione di una delibera.